Ragazzi, volete vedere come ho fatto a fare questa cosa? Beh, è molto semplice. Beh, magari se mi smetto di ballare. Perfetto. Allora, andiamo qua. Ovviamente con l'altezza che volete. Poi fate questo. Poi vi potete fare anche 90, ma dovete procedere a questa cosa. Guardate, uno, due e tre. E poi dovete mettere questa scatola alla punta della scala. Magari se funzionasse. Aspettate. Cioè non alla punta, proprio qua. Ok, perfetto. Poi salite sopra la scala. Cioè sopra la scatola. E guardate. E comunque in partita non lo fate perché potrebbe essere bannabile. È bella ragazzi.